Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove si segnalano 7 km di coda per un incidente ora risolto al km 12 tra Montelupo Fiorentino e la Strassigna in direzione Firenze, sempre verso Firenze e code tra Empoli ed Empoli Est e rallentamenti tra Scandicci e Firenze e Scandicci, spostandoci in a 12 un km di coda a tratti per lavori tra Pisa Centro e la diramazione per Livorno in direzione Rosignano. Sulla variante di Valico della 1 in direzione Bologna, incidente al km 29.700 tra Aglio e Firenzuola. Si ricorda che a Firenze per la ZTL estiva è tornato lo stop serale attivo nel fine settimana. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!